Ieri sera, giovedì 22 novembre, in prime time su Schiumo è andata in onda la quinta puntata del live show di X Factor 12, condotto da Alessandro Cattela. Il talent show, che si sta avviando verso le battute finali di questa dodicesima stagione di grande successo, ha proposto una nuova fase della gara, durante la quale c'è stato un altro concorrente che ha dovuto abbandonare definitivamente il programma, rinunciando così alla possibilità di vincere il premio finale. Ad avere la peggio, questa settimana, è stata Renza, componente del team guidato del re per Fedez.Al termine della prima manche di ieri sera, ad avere la peggio è stata la cantante Renza Castelli della squadra capitanata da Fedez, risultata la meno votata dal pubblico da casa.Alla fine della seconda manche è arrivata anche una seconda batosta per il rapper milanese, il quale ha dovuto fare i conti con un altro verdetto dei telespettatori decisamente spiazzante la meno gradita, infatti, è risultata la cantante Naomi.E così le due artiste del team di Fedez si sono sfidate in quello che tradizionalmente è conosciuto come l'ultimo duello.Entrambe hanno puntato sui rispettivi cavalli di battaglia per cercare di convincere la giuria, anche se in seguito è arrivata una richiesta ben precisa da parte del loro coach.Il giudice delle due cantanti, infatti, non se la sentiva di decretarne l'eliminazione tramite il verdetto dei coach, e così ha chiesto ai colleghi di arrivare al tilt per fare in modo che si aprisse il televoto.La richiesta del cantante Lombardo è stata accolta e, al termine dei 200 secondi che come di consueto sono stati concessi al pubblico da casa per esprimere la sua preferenza, il verdetto si è abbattuto su Renza Castelli, eliminata dalla quinta puntata di X Factor 12.Dove rivedere la puntata di X Factor 12 di ieri in streaming e in 30 anni.Per tutti coloro che non avessero potuto seguire la quinta puntata di X Factor 12 in diretta televisiva sui canali Sky, sarà possibile vedere la replica, video, in streaming online con l'applicazione Sky Go, riservata ai soli clienti abbonati alla pay tv satellitare di Mardoc.Per chi non è abbonato, invece, vi è la possibilità di rivedere il quinto appuntamento, video virgola del talent show in replica in chiaro sul canale Free TV 8 La messa in onda è previsto per mercoledì prossimo, 28 novembre, in prime time alle ore 2115 circa. Grazie a tutti!